MicroCutLive ti permette di gestire, salvare, stampare, inviare via email e trasferire i tuoi elenchi ordini per i tuoi clienti e altri sistemi di gestione della concessionaria. Vediamo ora le diverse possibilità a disposizione per selezionare ricambi e inserirli nell'elenco ordini di MicroCutLive. Per prima cosa possiamo posizionare il mouse o sul calut e fare doppio clic. Questo ricambio è stato inserito nell'elenco ordini. Un'altra possibilità consiste nel fare un clic singolo su un calut per far comparire la finestra dati. Tutto ciò che dobbiamo fare è cliccare sul comando ordina per inserire il ricambio nell'elenco ordini. Possiamo utilizzare anche la funzione di lazzo di MicroCutLive, cliccando e tenendo premuto il mouse e trascinandolo sui ricambi di cui hai bisogno. Dopodiché puoi rilasciare il mouse e fare clic su Aggiungi all'ordine. Per visualizzare l'elenco ordini, fai clic sul comando ordini nella parte superiore della schermata. Da qui possiamo cancellare una riga facendo clic sulla croce rossa nella colonna più a sinistra. Possiamo anche spostare i ricambi facendo clic su un ricambio e, tenendo premuto il tasto del mouse, possiamo spostare il ricambio dove vogliamo. È possibile modificare facilmente la quantità di un ricambio facendo un clic singolo, evidenziando il campo e digitando la quantità necessaria. Possiamo aggiungere dati cliente quali nome cliente, numero di account e numero di riferimento. Facendo clic sulla scheda cliente possiamo inserire maggiori dettagli sul cliente come ad esempio l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail. Possiamo salvare questo ordine facendo clic sul comando Salva in basso sullo schermo. Micro Cut Live salverà l'ordine e lo inserirà nel pannello degli ordini salvati. Il pannello degli ordini salvati si trova in alto nella schermata. Per visualizzare l'ordine, fai un clic singolo sull'ordine salvato. Da qui possiamo visualizzare le nostre informazioni sul prezzo e modificare o nascondere il prezzo facendo clic sulla freccia a discesa. Ora possiamo trasferire quest'ordine direttamente al nostro DMS, e inviarlo tramite e-mail come preventivo al nostro cliente, oppure stampare l'ordine e inviarlo a mezzo fax. Possiamo anche cancellare l'ordine e in questo modo non lo elimineremo soltanto dall'elenco ordini ma anche dal pannello degli ordini salvati. Le opzioni di elenco ordini disponibili in Micro Cut Live ti aiutano a gestire un reparto ricambi più efficiente e produttivo. Grazie a tutti.